C'è qualcosa di bello nel jazz tradizionale, ti riscalda l'anima, anche quel pezzo ti fa sentire qualcosa, una felicità pericolosa. Lo amano in America, nonostante sia stato scritto da un marxista tedesco. Li fa sorridere, anche se il cantante parla delle donne uscise nei vicoli oscuri di Londra. Il jazz può fare questo. Ed è ciò che mi ha portato tra le braccia dell'Italia. Non parlavo una parola di italiano e non sapevo spiegare come suonare una danata cosa, ma potevo mostrarlo. Potrei muovere le braccia e inclinare la testa e tu capiresti. La musica mi ha fatto parlare e le vecchie canzoni erano come una dolce poesia per me, momenti che oltrepassavano il limite della lingua. E quei musicisti mi hanno insegnato nuove parole, più dolci e brutte di prima. Ho iniziato a voler fare una grande dichiarazione per affermare la bruttezza e la bellezza del mondo. Non mi bastava più avere solo tre musicisti a mio fianco. Volevo un big band. Volevo parlare con il mondo. Se le canzoni tradizionali possono farti sorridere. Una big band può farti ballare. Louis Armstrong mi ha insegnato a camminare, ma Balirich e Glenn Miller quasi a spiccare il volo. Non sono mai stato un tipo che colpisce, ma ho sempre voluto stare sotto riflettori. Quando ancora avevo i miei capelli e una schiena dritta, volevo che mi vedessero come qualcosa di speciale. Volevo un pubblico, anche se non me lo meritavo. Volevo scherzare sul palco con il batrist di lato. Ehi, Nico! Fammi qualcosa di dolce e morbido mentre presento la banda. Li colpiremo con le cose forti dopo. Grazie, crettino mio. Signore e signori, è un piacere accogliervi questa sera in questo magnifico teatro per il debutto di Willy Loman Big Band. Stanno applaudendo? Li sentite applaudire? Sul palco stasera abbiamo Maurizio, Fabrizio, Marco e Mauro, Tiziana, Fabiana e Francesco Dantesco. E i musicisti sono così freschi che dobbiamo annaffiarli dietro le quinte. Abbiamo trombettisti, fascionisti e anche avaristi che vi danno un bicchierino di amaro se lo chiedete gentilmente. Benvenuti nel circolo del jazz dove i nostri maestri burritinai sono Armstrong, Bassi, Nestico e Fitzgerald. Il nostro tenore è un cattolico riformato e il sangue del nostro battrista è quasi alcolico. Io, io sono apostolico e diabolico, sono malinconico e bucolico, sono Willy Loman e non importa se sono semi morto. Stasera non importa niente, solo il palco e la scenica, la musica troppo fotogenica, posso sognare un applauso? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.